Che cosa significa infissi in PVC? Ciao, sono William Bisacchi di Infissi Bisacchi dal 1973. Ci occupiamo di infissi per abitazioni private con il sistema Bisacchi. Il PVC non è altro, tra virgolette, che polivenil cloruro. È praticamente un misto tra petrolio e sale, quindi un materiale plastico per tenere insieme questi due materiali, questi due componenti, vengono utilizzati dei plastificanti chimici in modo da legare insieme. In passato si è utilizzato molto il piombo come elegante, perché gli dava anche molta resistenza meccanica, poi dopo è stato tolto per chiare ragioni di sicurezza per le persone, perché il piombo è un materiale molto dannoso per il nostro organismo. Quindi in sostanza petrolio e sale come mescola base per creare il PVC. Poi dopo per creare un infisso occorre anche rinforzarlo, perché questo tipo di materiale è un materiale molto debole, quindi all'interno viene utilizzato dell'acciaio solitamente zincato a freddo, viene avvitato al profilo in PVC e insieme si forma una barra di PVC, che è composta quindi da petrolio, da sale e da ferro zincato. Ora ci sono alcune aziende che almeno nella parte dell'anta hanno eliminato il ferro, perché incollono il vetro strutturalmente, e secondo me l'acciaio gli dà una resistenza superiore. Altre aziende che hanno messo dei materiali, tipo la fibra di vetro, che è un altro tipo di materiale molto resistente, che non ha il problema della trasmittanza termica del ferro. E altre aziende hanno messo anche dell'alluminio, che lo fondono insieme al PVC. Se vuoi sapere meglio come scegliere l'infisso in PVC, perché penso che se stai cercando questa domanda, se hai la ricerca di un buon infisso in PVC, vuoi sapere come è fatto dentro, oppure vuoi sapere se è meglio un infisso in PVC, se è meglio un infisso in legno o in alluminio, ho ideato un servizio di consulenza per aiutare tutti quei clienti che non possiamo servire direttamente come la Bisacchi, perché noi lavoriamo principalmente nelle province di Forlicesena, Rimini e Ravenna. Se vuoi approfittare di questo servizio vai su www.blogbisacchi.it e richiedi la tua consulenza personalizzata. Ciao e al prossimo video! Grazie a tutti!